ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale io sono alessia e questo nuovo episodio della asylum challenge allora ricominciamo esattamente da dove ci siamo lasciati nello scorso episodio come vedete domenica sono le 6 e 01 sì allora oggi lei lavora fra tre ore quindi approfittiamo che ha qua davanti e ancora abbastanza energie per farle fare almeno un altro barra due quadri proviamo sempre il classico che forse riusciamo a tenerlo eccellente e dopo appunto domani che è lunedì la portiamo purtroppo insieme anche alla banda bassotti qua al museo per approfittare della giornata libera e osservare o ammirare tre dipinti bene è venuto eccellente fantastico quindi vendiamola la galleria d'arte e adesso volevo alla fine dell'episodio aspettiamo ancora un pochettino anche i pop art teoricamente dovrebbero venire eccellenti da quello che ci dicevano dicevo aspettiamo la fine dell'episodio dopo compriamo un paio di migliorie chissà che magari domani essendo il giorno libero riusciamo a farle fare altri quadri a guadagnare ancora qualcosina così non entriamo in modalità costruisci 35 volte cosa stanno facendo questi avevate dubbi avevate dubbi io le spellerei dal club solo per fare un dispetto vabbè lo finirai dopo vi vieni ti prego non posso uccidere anche lui lui è dentro e lei ho forse l'unica intelligente che si sta per lavare io non lo so che cosa abbia sto tipo che sta sempre fuori bravo almeno non muori io devo andare a lavorare facciamo lavora sodo abbiamo sì abbiamo fatto tutto che veniamo promossi bah mercatino delle pulci ok che dico che la volta buona che se muore qualcun altro venite a strozzarmi ma chi mi segue da parecchio tempo soprattutto con la vedova nera lo sa che io ho una vena sadica sotto sotto cioè io traggo un po piacere quando succedono queste disgrazie soprattutto a sim di cui non me ne frega assolutamente niente come loro però vabbè poi penso abbiamo sia la modalità media che la modalità difficile da fare è tutto rotto e quindi ci rifaremo le prossime nei prossimi due tentativi cercheremo di non uccidere nessuno forse qualcuno però meriterebbe di di morire anche il lavandino no dai almeno uno o guai al mondo che andiate a ripararlo è volevo migliorare i letti perché la tv l'abbiamo fatta il computer mi interessa fino a un certo punto cioè non è fra le cose primarie volevo migliorare almeno anche questo qua sopra urlo così nessuno fa la pipì visto che nessuno ha intenzione di riparare insomma volevo appunto migliorare un po il discorso dei letti e non tutti tutti però almeno un paio poi se loro sono pirla che andranno a dormire negli eletti scrausi quello è un problema loro ora devo decidere se migliorare anche il matrimoniale non credo perché sapete che i matrimoniali hanno un prezzo nettamente superiore ora vediamo un attimo i prezzi quando entriamo in modalità casa per il momento non ci poniamo il problema almeno ci proviamo anche perché lei è una donna esausta non abbiamo neanche punti per poter acquistare niente che bello abbiamo ricevuto anche il vaso di girasoli andiamo a metterlo è un premio della carriera lo possiamo mettere eccolo qui dove lo mettiamo mettiamolo qui che dia una gioia in cucina dai mezza gioia mi accontento di mezza allora siccome lei è esausta io la manderei a fare il bagno con la schiuma e dopo dritta a letto qui fuori noi abbiamo anche il quadro ma è finito no però mi sa che manca poco niente ha deciso di svenire col culo per aria per strada vabbè allora dai quando hai finito di svenire fare la pappa molle vieni a lavarti riposati un pochettino e dopo ripariamo tutto quanto perché qua nessuno fa niente il mio letto è libero speriamo non puzzi come il tipo il mio letto non che sia mio mio però spiritualmente è mio nel cuore è mio dai eh c'è anche da pulire ma guai al mondo che qualcuno pulisca eh no è meglio restare puzzoni ma mi fa morire perché quando puzzano anche i vestiti sono tutti sporchi cioè una persona che puzza di solito non hai vestiti macchiati di roba ma guardate che lavori ma perché non entrano io però temo che se io premo il pulsantino qua vai a casa cioè io praticamente gli dico che cosa fare e quindi praticamente è come se lo comandassi e non lo posso fare se ci pensate no non è come il cane che lo chiami a te che c'è il pulsantino quando si allontana chiama a te che vabbè tra virgolette può essere giustificato allora lei si è riposata un pochettino non credo sia in vena di dipingere però possiamo farle mangiare qualcosa di no è di qua ma dove è eccolo qua so proprio c'è capatocca ah loro non lavorano stasera forse è la volta buona che riusciamo a vedere nel loro inventario se mi ricordo di guardare a mezzanotte adesso fisso l'orologio con fare con fare sapiente si dice così vabbè insomma fisso l'orologio ci siamo quasi si è rotto qualcos'altro io strozzo qualcuno uh l'abilità di manualità mezzanotte spaccata mezzanotte spaccata dai che qualcuno sta facendo qualcosa allora che schifo che fa io tu non hai niente tu hai ste robe che potrebbero servire a lei però quindi ok e tu hai sta roba che credo sia data male negli anni 90 ok basta possiamo fare altro quindi è inutile che asciugli se non ripari tesoro c'è una battaglia persa in partenza mi spiace darti questa notizia onestamente il pulire può anche venire dopo nel senso tanto adesso ci saranno tipo i fantasmi che mi desfano la casa o me la puliscono in alternativa e c'è anche questo se riusciamo a ripararlo ma dopo andiamo a letto facciamo una tirata fino a domani intanto stiamo migliorando pure la manualità quindi direi che insomma non male hai visto che casino che mi hanno fatto dico anch'io mamma mia è proprio incazzoso è sei morto di caldo tu ah sì infatti vedete che si fa aria ah non ce l'ho neanche nell'albero genealogico da poter dire aspetta che guardo ops dai ma andiamo avanti il tempo ma andiamo avanti il tempo allora noi possiamo andare in giro dalle 9 alle 15 portandoci dietro appunto la banda bassotti come l'ho ribattezzata in questo episodio cos'è che mi ha riparato potresti anche pulire comunque sia mai che fate qualcosa per sta casa o cioè potrebbero entrarci veramente in maiali e vomitare sul pavimento voi non fareste proprio niente anzi vi scansereste anzi scansereste quella roba che è uscita che vergogna siete vergognosi veramente vergognosi non ho parole allora facciamola riposare vediamo banda bassotti qua non la sia mai che metti il culo in casa tu porca miseria oh cos'è siamo diventati maniaci dell'igiene adesso tu dove sei guarda questo è sporco questo è sporco qua c'è da pulire anche qui ma no meglio lasciar lì occhio non vede speravo di averla fatta sentire in colpa cioè che fosse andata in bagno dire cavolo forse però dovrei pulire figurarsi tanto abbiamo la serva sara che fa tutto no e sia tu devi fare la pipì poi quello è abbastanza a prescindere ah adesso asciughi adesso che io devo farla oh qualcuno ha pulito il water nevega ah le bollette 6.260 tutto perché abbiamo attaccato l'aria condizionata no vabbè anche un lotto grande cioè ce l'abbiamo per carità no aspettiamo aspettiamo di accumularne ancora un po finiamo questo quadro poi andiamo via così lo vendiamo tanto staremo poco al museo cioè non è che il quadro penso sia praticamente finito infatti normale però niente allora viaggiamo e purtroppo banda bassotti dobbiamo portarcela dietro fra le 9 e le 15 sono le 10 e 40 quindi direi che siamo in perfetto orario ok c'è un museo anche qui sì andiamo in questo perché io credo di aver sempre visto quello di willow creek dai andiamo qua tanto uno vale l'altro ok ci siamo questo sarebbe un museo va bene allora osserviamo tutti insieme così vi porto dentro e non vi faccio morire di caldo fuori ringraziatemi però parlano di dipinti qua ci sono dei dipinti sì qua sopra porca qua dai osserviamo basta guardare la barchetta che è inutile forse ce ne sono anche qua sotto di dipinti sì tipo questo vabbè non ha importanza l'importante è osservarne guardate con che aria spocchiosa va a vedere il dipinto ok uno fatto basta l'hai visto visto una volta visto sempre che è successo dimmi che se l'hai fatta addosso no però puzza che comunque non è piacevole ok due visti guardate quanti spazi sprecati dai approfittiamo di questo a questo piano c'era qualcosa di più interessante di qua no non particolarmente ok tre visti orca questi si insultano fatti urlare contro da Edoardo vegliano dette di tutti i colori mamma mia adesso ti picchio vieni qua che ti picchio insultalo guardate voi io come trascorro il mio giorno libero farmi insultare da un ebete poi insultalo è perché si è messo questo in mezzo scusati un paio di balle comunque accusa di spiare tu mi spi e ti fai i fatti miei adesso starnutisco no non starnutisco più scherzavo diamogli il regalo perfido magari sono delle scoregge in scatola eccole là come se la ride ma quell'altro ride un po' meno però vabbè cos'è che avrebbe trovato scusate che fa sto rumore allora qua c'è una pista mettiamo in pausa ah no dobbiamo tornare a casa anche perché fra poco sono le tre quindi meglio non cominciare attività che non potremo portare a termine meglio filarcela a casa prima di violare il regolamento allora chiaramente come ogni volta che si manda via la gente in massa si mettono tutti in un punto il gioco si bugga e non va via nessuno infatti sono le 15 e 30 ho dovuto mandare via lei lei era andata a casa passare al controllo di lei adesso mi porto qua gli altri ah dio del cielo vabbè quindi io in realtà sarei tornata a casa giusta è che poi se il gioco è pirla io che colpa ne ho dai proviamo a fare il formaggio grigliato ah mamma ah mamma cioè riscaldamento a morte e invece di entrare in casa oddio lui è l'unico in casa no ragazzi facciamo così fermi tutti io non voglio che mi muoiano perché non siamo più non siamo più come gruppo forma un gruppo veniamo a guardare la tv insieme dai tutti qua tutti qua eh vabbè volete morire allora facciamo zapping insieme chissà che magari lui venga eh vabbè morirà cosa volete che vi dica raga io ci ho provato cioè io più di interrompere tutto e chiamarli per guardare la tv non so cosa fare eh pirla ha preso il posto di di Edoardo come si chiama lui Stefano ha preso il posto di Edoardo se uno è ebete ripeto è colpa mia che fatica a vivere ragazzi e se io faccio così proviamo gioca con ah solo con quelli che sono in casa lo posso fare no perché qua non ne rimane più neanche uno se andiamo avanti così allora svegliamolo ma perché mi insulta anche lei fatti insultare tutti mi insultano sono l'unica che manda avanti baracca e burattini e voi mi insultate cioè arrangeve ora no allora lamentati dei problemi e dopo proviamo a fare tipo chiacchiera qui vediamo se viene sì viene viene bene vabbè raga paghiamo le bollette perché questo ho capito che le devo pagare altrimenti prima o dopo niente quindi no non modifichiamo una cipa lippa salvo che lei adesso con il quadro meraviglioso che le faccio fare non mi guadagni tipo 3 milioni ma tu devi andare a lavorare anche tu dovresti andare a lavorare vabbè no niente raga le bollette ci hanno portato via tutto vediamo se almeno un letto riusciamo a tanto non cambiava niente cioè spendili nei letti niente normale però vabbè guadagniamo 400 e passa cioè intendo dire spendili nei letti e poi riaccumulali per le bollette o spendili nelle bollette e poi riaccumulali per eventuali letti o quant'altro praticamente è la stessa identica cosa vediamo se riusciamo almeno a sostituirne uno io non mi ricordo i prezzi allora noi abbiamo questo perché questo era da bambini quindi non glielo ho messo magari tipo questo 400 o questo allora questo energia 4 antistest tema è scomodo oh bello questo costa 500 bello e lo mettiamo così tipo cambiamo questo aspettate che mettiamo magari giorno che ne cambiamo uno cambiamo due mettiamo uguale e basta se no ci troviamo col sedere per terra pian pianino poi e quindi lei la mandiamo a dormire in uno di questi letti nuovi e niente ragazzi io spero nel prossimo episodio di riuscire a raccimolare ancora un po' di soldi per continuare a sostituire cose devo dire che sto letto mi piace tantissimo tutto lo stile che ha lo staff pack mini case mi piace davvero tantissimo e quindi sono veramente contenta di essere riuscita almeno a sostituirne due noi siamo in quattro magari nel prossimo episodio ci riusciamo e quindi niente ragazzi io vi lascio qua lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti